buongiorno ben trovati buon martedì 9 agosto oggi la chiesa ricorda santa teresa benedetta della croce al secolo edith stein vergine martire patrona d'europa la liturgia di questa festa è tutta lei dedicata cerchiamo di conoscere un po meglio questa grande figura di santità sostanzialmente contemporanea edith stein nacque breslavia allora in germania da una famiglia ebraica praticante nel 1891 frequentò gli studi nella sua città natale ottenendo ottimi risultati frequenta poi l'università a goettingen con edmund husserl allora famosissimo professore di filosofia e certamente uno dei più grandi filosofi del novecento con lui ottenne il suo la sua laurea il suo master e suo dottorato e diventò assistente dello stesso husserl nel frattempo si impegnò moltissimo per la promozione della donna nella società la sua ricerca spirituale però pur avendo abbandonato la fede ebraica e la pratica religiosa non si era spenta e proprio all'interno della sua ricerca spirituale si confrontò con il cristianesimo leggendo l'autobiografia di santa teresa scoprì la verità e decise di ricevere il battesimo il primo gennaio 1922 cento anni or sono diventò cristiana continuò la sua ricerca anteriore continuò la sua attività di studio e si scontrò però con le leggi razziali per questo poter dopo vari anni finalmente realizzare un desiderio che quello di diventare monaca e infatti nel 1934 vesti l'abito religioso del carmelo a colonia era un suo grande desiderio fin dalla conversione ma i padri spirituali non glielo permissero subito vuol dire che si impegnasse ancora nel secolo nella ricerca nello studio a colonia nella preghiera continuando anche l'attività di studio raggiunse vette mistiche a causa delle leggi razziali sempre più tremende emanate nazisti venne portata poi venne mandata le superiori nel carmelo in un carmelo in olanda per cercare di sottrarla alle persecuzioni ma purtroppo anche lì i nazisti la raggiunsero venne arrestata il 2 agosto del 1942 e morì ad auschwitz nelle camere gas il 9 agosto 1942 offrendo il suo olocausto per il popolo di israele nel 1998 fu canonizzata da giovanni paolo secondo che nel 1999 la proclamò compatrona d'europa ci affidiamo alla sua intercessione e assoltiamo il vangelo di oggi lettura del vangelo secondo matteo in quel tempo il signore gesù disse ai suoi discepoli questa parabola il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo cinque di esse erano stolte e cinque sagge le stolte presero le loro lampade ma non presero con sé l'olio le sagge invece insieme alle loro lampade presero anche l'olio in piccoli vasi poiché lo sposo tardava si assopirono tutte e si addormentarono a mezzanotte si alzò un grido ecco lo sposo andate gli incontro allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade le stolte rissero alle sagge dateci un po' del vostro olio perché le nostre lampade si spengono le sagge risposero no perché non venga a mancare a noi a voi andate dai venditori comprate bene ora mentre quelli andavano a comprare l'olio arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa più tardi arrivarono anche le altre vergini e cominciarono a dire signore aprici signore aprici ma egli rispose in verità io vi dico non vi conosco vegliate dunque perché non sapete né il giorno né l'ora la parabola delle vergini sagge le vergini stolte è una delle tre parabole del capitolo 25 di matteo che riguardano il tema della vigilanza l'esperienza da cui attinge un'esperienza per noi un po strana ma comune al tempo di gesù le vergini compagni le erano quelle che compagnavano la sposa alla festa di nozze le amiche della sposa insomma e diversamente da quanto capita da noi in cui si aspetta che arrivi la sposa all'epoca di gesù si aspettava che arrivasse lo sposo era un po diverso era lui che viene a prendere la sposa le compagne e andavano alla festa nella nuova casa ebbene da questa esperienza così quotidiana no però certo comune gesù ricava una parabola sulla vigilanza può sembrare strano che le vergini sagge non diano del loro olio ma cosa rappresenta l'olio non è un gesto di mancata carità attenzione l'olio rappresenta la fede l'olio rappresenta la carità nessuno te la può prestare non può fare dei gesti di carità può compiere delle azioni ispirate alla fede può pregare per te ma la fede è tua risposta personale la carità ispirata da dio è tua opera nessuno la può avere al posto tuo chiediamo la grazia di avere in noi fede speranza e carità come l'ha avuta edith stein che ha trovato la verità del suo essere figlia di israele nell'essere sposa di cristo vergine consacrata e con il suo martirio ha offerto la vita perché israele e perché l'europa potesse amare dio preghiamo gli uni per gli altri preghiamo per la pace in europa e perché cristo sia riscoperto dell'europa come l'unico senso di tutto ciò che esiste come senso della vita e del mondo edith stein santa teresa benedetta della croce prega per noi si l'ha dato gesù cristo